Salve a tutti, sono Valeria Micera e sono un analogista del territorio pugliese e in particolare del territorio tarantino. La mia attività di analogista si svolge nel privato attraverso degli incontri individuali durante i quali guido e supporto la persona che si dedica a un lavoro personale e profondo volto alla risoluzione di frustrazioni, disagi personali, difficoltà relazionali e altri tipi di problematiche che comportano malessere e infelicità. Il principio a cui tengo particolarmente e nella mia attività professionale è la divulgazione delle discipline analogiche, infatti mi occupo di divulgarle attraverso degli eventi di presentazione, dei salotti analogici a tema, attraverso dei corsi privati dedicati a chiunque voglia comprendere al meglio come si esprime il nostro inconscio, come è possibile migliorare le proprie capacità comunicative e soprattutto come attraverso la comunicazione analogica e il dialogo con l'inconscio, strumento principe delle discipline analogiche, sia possibile consapevolizzare i propri stati d'animo, dargli un'accezione e migliorare la propria vita puntando al benessere. Nella mia esperienza sino ad ora sono diverse le persone che si sono approcciate alle discipline analogiche attraverso gli incontri individuali con delle esigenze diverse naturalmente e sono vari anche gli utenti che hanno partecipato sino ad ora ai corsi. L'avvocato che intende comunicare in maniera efficace con i colleghi e i clienti, il venditore che intende migliorare le proprie prestazioni attraverso l'utilizzo delle tecniche di vendita analogica, il docente che vuole migliorare la comunicazione con i propri allievi, l'esperta di make up che vuole offrire il suo servizio e vuole chiaramente promuovere il suo prodotto, il genitore che vuole migliorare la propria qualità della relazione con i figli e viceversa e gli amanti poi della seduzione. Essendo le discipline analogiche a mio avviso molto ampie, molto vaste, ho lasciato che il target del mio lavoro di analogista si definisse naturalmente, perciò le mie competenze, quelle che sono le mie conoscenze nel campo delle discipline analogiche sono volte sostanzialmente a chi intende voler migliorare qualcosa nella propria vita, perché ritengo che chiunque, mosso da esigenze personali, possa lavorare su se stesso nel privato e chiunque sia motivato a migliorare le proprie capacità comunicative nella sfera personale, sentimentale o professionale, possa essere completamente libero di farlo.